Musica Questa che vedete è l'abbazia di Montevergine, siamo in Irpinia a 1126 metri di altitudine Siamo nel comune di Mercogliano in Irpinia Questa abbazia fondata da San Guglielmo da Vercelli è diretta nel 1126 E' un abbazia che ha una profonda storia alle spalle Pensate che qui è stata custodita secretamente la Sacra Sindone dal 1936 fino al 1942 Per un accordo tra Papa Pio XII e Vittorio Emanuele III Perché Hitler era estensionato dalla Sacra Sindone e quindi fu tenuta nascosta in questa abbazia E' poi restituita a Torino dopo la fine della guerra Adesso ci avviciniamo piano piano, questo è il piazzale prospiciente dell'abbazia Vedete siamo in piena montagna, le montagne innevate Ci avviciniamo all'interno dell'abbazia Vedete siamo in piena montagna, le montagne innevate Vedete siamo in piena montagna, le montagne innevate Vedete siamo in piena montagna, le montagne innevate Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.